musica 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 ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video io sono alessandro e lui è Andrea oggi faremo un troll sul nostro server anzi io sono youtube lui è staffer siamo complici admin per precisione lui è admin e lui è mio complice di fare un troll di trollare tutto il server ragazzi questo video sarà molto epico infatti è il mio primo video così guardate come si chiama zone network entra the tool bpmt più schermo vi metto ok iniziamo mettiamo la manis banis e ce l'abbiamo non c'è un no perché un morato io giusto il motivo per fare ai quattro di un'armatura e andiamo No però se sono in Vanish Non dovrei vedermi anche l'armatura Questa sarebbe solo l'invisibilità Non è la Vanish Mi sa che va un po' male la Vanish Vabbè metto l'invisibilità Quella dove non si vedono le particelle Stai fermo Vieni qua se no ti vedono Sì perché questa Vanish sarebbe l'invisibilità Ma che fake Guarda vabbè Dobbiamo anche cambiarlo Aspetta Si vedono le particelle Io vedo qualche particella Che esce non so da chi Forse da te Sono mie Dimmi se me le vedi Zero particelle Vedo qualche particella No non le vedo più No ne vedo qualcuna Forse da me Vabbè pochissimo Vai a Mattias No 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 lui Andiamo vieni sempre allo spawn Io ce l'ho Aspetta Ci sei? Si ci sono Io ci sono Ok andiamo a fare questo troll A questa gente A Mattias Prima a Mattias lo facciamo Oh Mattias sta Aprenditi Aspetta Sta prendendo Ok prima lo lasciamo un attimo Vediamo un attimo cosa fa Non ancora Non hittarlo ancora Mi raccomando Dove sei? Che sta facendo? Mamma mia Lo volevo hittare per sbaglio Lo stavo per hittare per sbaglio Perché sono più andato a fare le combo io Se mi tirano Ah no tanto sono creativo Ragazzi io so fare un po' le combo Lo so fare No ho fatto per sbaglio Ok Andrea ci sei? Ok per me è su Ma non è ancora Lo sto hittando Io lo sto hittando Ancora non si è spostato Quindi vuol dire che ancora Non dubita di noi Ok Io lo sto hittando per ora Eh non ce l'ho lo zoom Perché non ce l'ho l'optifine qua Così vediamo Così Dai adesso si raccorda dai Dai si ne raccorda Mi sta che sei ne raccorda Dai se ne sta accorgendo dai Cosa? Cosa sta succedendo? Si raccorda Cosa? Ma dove? Che sta succedendo? Matti Stai ragando il server Ma me mi stanno picchiando Ma me mi stanno picchiando Ma state trollando raga No 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 Qualcosa mi stava macchando E mi sta ragando il server Qualcosa mi sta macchando E chi? Oh Non lo so Ma raga non vi dite che mi state trollando No 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 Non ci siamo neanche online Non ci siamo neanche online No Qualcosa mi sta Qualcosa invisibile mi sta picchiando Raga Non ci siamo neanche online Cioè se sei solo Solo tu e agram siete online Guarda la tab E quindi sono loro due Scriviti Sarai tram che ti troll Che ti lo ti Perché noi siamo proprio online Sì può essere lui Scriviglielo se è lui Scriviti Stai ammaccando Scriviti 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 Forse è akram Andre guarda che comunque sono molto bravo a fare le combo Le imparate qualche giorno fa le imparate Infatti vedi che combo vi faccio Se vi faccio le combo sono io comunque Oh Idea Fra lo buttiamo in mare Lo buttiamo in mare Guarda lo tippiamo però E vieni Mattias Nel mare c'è una roba L'ho vista io prima Sì Prima Vabbè Non è vicino Sì Resta Oh E Mi sa che se ha eslogato Ha eslogato Ha eslogato No No Solo Ok Ma lo sotterriamo vivo Anzi Li tiriamo dei pugni per farlo sloggare Ma col pesce Eccolo Eccolo Ma lo hito come un'ascia Oh 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 Mi sto ammazzando Eccolo Esci da server Ti viene Si è rotta purello No Poi ripaghiamo l'armatura Che ne dici Poi Mi sa che non droga Non droga No L'armatura Se lo porto No la totem No Vabbè Poi No Pruta l'armatura No Mattias Che ne dici Andremo Che ne dici Poi gli erdiamo le cose Dalla creativa No Si dai Se lo tolarlo non riesco Però pure il totem Aspetta Gli andiamo a rivelare il troll Aspetta L'ho sposto Anzi Aspetta Vieni qua Lo tipo Aspettiamo che entra Lo tipo qua Aspetta Guarda Io c'avevo un'idea Io Vado in altissima Lo tipo Devo a 10.000 blocchi Lo tipo Quando entra Eccolo Flash TP Anzi No No L'ho tipato qua Non funziona Perché non me lo fai 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 Ci riveliamo qua Guarda Tieni qua Dov'è Molite Non mi fa Vieni il latte Mattia Non ce l'ho il latte No Vieni il latte Mattia Guarda Era un po' Guardati dietro Eravammo noi Ma come Ti dici se c'è io Dei trollare tutto Ma come Era con la posizione Dei trollare tutto E le trollare tutto Io comunque Come è possibile No Non volevo fare io Il combo No Sto vorrendo Guarda Salute L'armatura Fai ci dispiace Adesso te la ridiamo Grazie Perché siamo in GMC Siamo Tanto non è Incaitata Non aveva cose Quindi te la diamo così Guarda Te la do io Quanti totem avevi? Uno Uno Ok Sei meritato questo Dai Guarda Te ne diamo due Te ne diamo Grazie Mattia Siete gentili Siete gentili Del resto Del resto te la do diamante Il colpetto E ne dirite Allora prima E rendiamo a te Tu ce l'hai dato Il colpetto E ne dirite Ecco Vai Sì Gliel'ho dato io Per il regalo Visto che l'abbiamo fatto Ok Spera Li do l'armatura Li do l'armatura Sei il mio Mattias Chi è L'armatura Egli Mattias Tu La Ok andiamo a trovare gli altri Stoppiamo la reg Poi raga Andiamo a prendermi un altro Ok Ragazzi parli una bassa voce Perché qua sotto c'è Mattias Dobbiamo rubare la casa di Mattias Ok ok Siamo pronti Aspettiamo che arrivi il momento Ok Comunque mi senti? Aspetta Oridio Che cosa dice? Oridio un attimo Cosa dice? Non sento niente Aspetta Adesso non ho ancora credo No È finito il legno No Devo andare a prendere Ciao Guarda Ciao Andiamo Oh ancora No No Non c'è legno Devo andare a Prenderlo Fuori Ok Ok No La mia arma Non è stata Aspetta Guarda Prendi tu Prendi tu Io prendo Ok ho finito Ho finito Ho prendo con un po' non sono scoperto la mia stessa il tuo punto il 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 mondo di un rapporto se la testa di te prendi il sac 18 il mondo il un secondo sto mettendo questo un un po' non mi mi dite mai dire il video o un piano buonanissimi non si qualsiasi dvd ok ora vado a ammazzare coltino ecco la perché devo fare un letto aspettami prendere le sciolte a mano le due mi puoi dare un po' sugar in più devo fare un letto vado a una sugar in palestra è impossibile sono tornato ho tre stack qua di nederite metti tutto là dentro altre sugar vado qui mettila nelle nederite vado un po' a prendere qualcosa qualche diamante che mi serve lo sento ancora in lontananza eh lo sentiamo perchè si è scorta lo sentiamo guarda va sguora tutto sguora tutto aspetta fammi mettere le nederite stiamo finendo le sugar mi rimangono delle sugar c'è le altre ok si ora vado a prendere sugar io metto le nederite in questa qua l'ultima ecco c'è una pecora rosa questa è la vittima no lo devo portare a casa e questa è da lottare ancora lo devo portare a casa mamma io stai rubando no le cesse no le cesse non le rubare ok ci sono sto tornando con la pecora sto tornando con la pecora vai qua metti i nederite vabbè io ti metto uno stack qua di diamanti ok aspetta no sto tornando ho quasi finito guarda sta tornando sta tornando muoviti muoviti ok aspetta no 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 fermo che bella la pecora speriamo che devi fare altro forse devi fare altro sul serio speriamo speriamo sto morendo di fame devo andare a prendere qualcosa di mangiare ma secondo te a casa sto andando a prendere a mangiare più da noi o o dove va secondo te a prendere a mangiare la do un po' a casa sto morendo di fame no 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 un casino qua, un casino, un casino, un casino se viene un casino se ci trovo un casino tanto da mangiare c'è la cucina che la cucina non è qua shiftati, shiftati ah ho lasciato un po' di carne qua su le zitto 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 vè qui ok ok vado a vedere un po' la mia ricchezza vado un po' no no sono così lento metto due anni cosa fai qua oh chi era? no no c'è ragno corri corri prendi un piccolo n da ride così prendiamo tutte le shulker no stavo morendo no 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 ragno ho tolto tutte le shulker no ragno quindi tutto anche le casse non me ne frega no vado a uccidere il ragno vado a uccidere il ragno ragno dove sei? oh il ragno ha bloccato o no 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 con iberi porta per me ho capitine no no fuori della polpa c'è un alto verme, è veloce, corri sono indicati delle armature raga sto morendo ok scappiamo 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 devo mangiare dovrò avere questi io pipì pipì aspetta vi c'è l'armatura ma bancho è fallito vai ok ho mangiato no ti prego siamo ricchi aspetta posso fare una cosa? no eh server riavvio hanno fatto riavvio del server vabbè ragazzi ce l'abbiamo fatta no devo avviare la rick non è possibile no 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 aiuto sto morendo vi ammazzo vi ammazzo vieni corri vi ammazzo treno 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 vi ammazzo tutti no come ci si sale sul treno? no no il treno sta andando no come salgo sul treno? più ammazzo no no combo 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 due cuori no la ricchezza la ricchezza la ricchezza la ricchezza la ricchezza la ricchezza scappa 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 ha un cuore però sei rinita son morto no ho un cuore e io un cuore sia matto aaaaaDa ma con me la ricchezza scappa sui binari scappa la ricchezza scappa che lascia datemi la ricchezza ci sta ci sta muovendo non vi lascherò mai andate sto finendo la fame sto finendo la fame non riesco a correre no no che devo fare è è a cuore datemi la ricchezza io scappo ho mezzo cuore mi devo mangiare la melo d'oro no sei morto no le ricchezza non te le daremo ci siamo messi da che più in ventoli ci siamo messi come se che più in mezzo io prendo le melo d'oro aiuto aiuto arrivo arrivo ritorno torno subito guarda ho tre cuore ma io ho passato lo stesso ce l'ho un secchio d'acqua non riesco a correre sto morendo è morto io guarda ragazzi io prendo dalla creativa perché aiutami vi ho fatto datevi la ricchezza no mai sono andato a 12 fps sono andato a 12 fps sono andato a 12 fps guardate tu io era la pioggia ho visto che mi faccio prendere non ci diamo non c'è la pioggia No! Vai fuori! Fuori fuori! No 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 Siamo issi! E lo faremo Gli acqua di! Emberta! Andrea c'era uno scudo Devo trovare uno scudo Devo trovare No, devo correre, sto morendo. Stai! Non morirò mai! Le mie ricchecchie li devo prendere! Stai fermo, sto mettendo solo per prendere! Vai! Quanta vita! E infatti quanta vita! Stai a scure con le cose delle mie! TOTER! 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 Vai! 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 Killalo! 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 E io mi devo ucciderai, vai! Vai! Oh! No! Vai in due, in due, in due! TOTER! 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 No, no, no! Tu me la prendi rata! TOTER! 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 Vieni Un'altra Come arrivai a casa No No Mi sta uccidendoooo Sono shirtless 2.0 No No Coro Su Su Siiiii No, portiamo via le ricchezze, portiamo via le ricchezze dai Le nostre ricchezze dove le portiamo? Facciamo un bunker segreto Andiamo, feloce Ma sarei in ospedale Per me la trappola Oh ecco Basta, non voglio più, vi derrò tutta la mia ricchezza Eh, dammi Dai, passa Vai, passa Su, vai Non mi uccidete Non mi uccidete anche l'arma della scelta mi dà la scelta no l'arma buongiorno buongiorno come va la giornata bene stiamo breccando no la mia richiesta perché perché la mia richiesta no no sta morendo la mia ricchezza dai vogliamo davanti o sicuro la casa rimettila come prima perché sennò è un casino avanti quanti sono sono grandissimi non rimettere più cosa perché perché guarda aspetta facciamo gli amanti io non lo posso fare guardate non so come si fa buongiorno di nuovo scusate mi stavano mi stavano parlando tipo che qualcuno che ha messo up è successo un guaio ok comunque volevo chiederti cosa ho un'armatura in netherite ve la puoi lasciare ma tanto lo youtuber a video stiamo arriccando se ce l'abbiamo alla fine schifte Helicopter Helicopter No Assezione Vai un Vai un Non finisce bene la cosa Helicopter Helicopter Paracopter Paracopter Io sto facendo un pro Raga mi ha venuto un'idea Mi ha aiutato un po' Aspetta Guarda se io ma mi metto così Tipo se io ma facessi così Perché ma facciamo pure un'altra Cerchiamo pure di collegarlo Come ho fatto Vai No te l'aveva fatta Il braccio l'aveva fatta Raga levate un attimo Fatemi vedere una cosa Spingete Eh ma non così tanto Oddio Aspettate ho realizzato una cosa Ho realizzato una cosa No raga abbiamo realizzato una cosa Abbiamo realizzato che qua teniamo tre in cart Quindi possiamo fare un bel Oh basse chi è? Sono io Io posso fare un bel Allora Dicevamo Signori guardate un po' qua Allora accendiamo tutte le leve Facciamo una cosa Fermi tutti Non avviate il treno Non avviate Helicopter Helicopter Vai Ognuno è proprio possibile Un'altra propria postura Sceguitemi un treno Ci vediamo Io sono prima fila Io sono prima fila A sera Prim papo Prim papo Prim papo A sera Un'idea tiger Facciamo una cosa Facciamo un video E dove Tu si sali Mettendo di te E tu fai Super il tubo E voli Allora Allora Facciamo una cosa Cerchiamo prima un po' Di ampliarlo Dato che Mettiamo un po' più treni Facciamo qua Facciamo così E lo mettiamo qua Poi facciamolo anche di qua Almeno così 1 E 2 3 4 5 Mettiamo leva 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 Ora Carrello 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 19 19 19 19 19 20 22 20 22 No, mi è vero, tu l'idea, aspetta Se mettessimo tanti minecart Facciamo un cerchio di minecart Ho realizzato una cosa incredibile Faccio così E vado avanti Così Fino ad arrivare a qua Lo metto così Metto un altro bello così Mettiamo qua la leva Scendiamo di sotto Musica